No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, io ti farei vedere che roba, no, vabbè Del tipo? Io ho sparato tre colpi in faccia mentre era sdraiato, si è rialzato, si è girato e mi ha turnato No, no, vabbè, dai No Sei fatta? Sto avanzando Sto curando un motore, sono feritissimo No, dai, mi ha one shotato, mi ha be will fast Dai Non hai il metto, è sulle scale Ho ucciso una partita perché sta facendo WTC shot up Io ho ucciso una barbata Era quello che vedevo prima No, non... Non... fanculo però una situazione dai però per cosa servono le protezioni